Per fare questa mousse al tonno come antipasto, o perché no, anche come merenda, devi utilizzare del tonno sott'olio sgocciolato. Io ne vado a pesare 150 grammi, in ugual misura peso anche 150 grammi di burro. In una bowl io mescolo e treto con il frullatore ad immersione entrambi gli ingredienti, fino a che il tutto sbianca. Potresti utilizzare anche la forchetta al posto del frullatore, ma farai più fatica. Assieme a questo ancestrale tonno spalmabile metti anche due acciughe, quindi io ho messo 4 filetti e anche 7 capperi dissalati. E poi sono andata a tritare il tutto assieme. Come ultima cosa, ma molto importante, bisogna mettere il succo di mezzo limone. Questo pesa in tutto, non ancora spremuto, 50 grammi. Dopo aver aggiunto il succo di limone, puoi mescolare e questa mousse si conserva in frigo, quindi dovresti farla riposare in frigo per circa due ore prima di mangiarla. Ti aspetto nel mio prossimo video, ciao!